Il gerundio dei verbi essere e avere Il gerundio è un modo verbale che si compone soltanto di due tempi, presente e passato. Il gerundio è un modo verbale che si compone soltanto di due tempi, presente e passato. Il gerundio presente del verbo essere è essendo. Il gerundio passato del verbo essere si forma con il gerundio presente più stato, essendo stato. Il gerundio presente del verbo avere è avendo, avendo. Il gerundio passato del verbo avere si forma con il gerundio presente più avuto, avendo avuto, avendo avuto. Ed ora vediamo qualche esempio d'uso del gerundio. Avendo avuto la febbre, Marta non è uscita di casa. Significa che, poiché aveva avuto la febbre, Marta non è uscita di casa. Essendo ingrassata, Trilly non può usare il vestito dello scorso anno. Significa che, poiché è ingrassata, Trilly non può usare il vestito dello scorso anno.